persone. Per esempio, Teo per Noah è l'amante, il padre, il fratello, il bambino e il migliore amico. La stessa cosa per lei, che è per lui l'amante, la figlia, la sorella, la madre e la migliore amica. Questo è il repertorio totale di tutti i rapporti intersoggettivi che possono avvenire all'interno di due individui e questa è la prova dell'intensità del loro legame e che diventa come una asuefazione alla droga, come una droga. Infatti uno dei temi principali è proprio la droga, l'asuefazione, perché dal punto di vista loro l'abbiamo visto nel tipo di rapporto che non si sa slegare, che non si sa allontanare tra questi due, pur con la crisi. E poi, nel fatto più diretto e ovvio, la morte di questo ragazzino, Immanuel, che non si capisce bene di cosa sia morto, se è morto suicida, se è caduto dove è stato trovato, se l'hanno ammazzato, oppure se era in stato confusionale per l'assunzione di droga. E questo non si sa. E Noah stessa è completamente drogata da questa situazione e poi, insieme poi a suo marito, saranno drogati a loro volta dal desiderio combattuto in varie maniere, ne riguarda il progetto di costruire una data casa di cura. And the small town itself, the small town of Telkeidar, becomes a protagonist, a character in the novel. It's a very provincial town, very quiet, uneventful. People go to work every morning, come back from work in the afternoon, go home for a siesta. Then in the evening, they can choose between Café Paris and Café California. There is nowhere else to go. Everybody knows exactly what's happening with everyone else, because the gossip predominates the place, and the town is very gossipy. There is the local Don Juan, who has a big mouth, but not so big in other fields. There is the local mayor, who is energetic, positive, but very provincial and cannot do much. And there is all the usual cast of local characters, the newspaper readers, the small-time ideologists, the world reformers who are tired of reforming the world, the revolutionaries who had lost their revolutionary zeal, all the milieu of a small town which becomes part of the plot, becomes involved in the plot, and becomes directly influential on the life of the couple. Dunque, poi abbiamo la cittadina di nome Tel Kedar, dove si sviluppa l'esistenza di queste persone, ma che è a sua volta una protagonista della storia. Tel Kedar è una classica cittadina molto tranquilla, con un tram tram molto regolare, la gente va a lavorare alla mattina, poi torna a casa, fanno una piccola siesta, si preparano alla sera, alla sera si dividono o al caffè Parigi o al caffè California, dato che sono le due uniche alternative, e qui si sviluppano i loro rapporti sociali. Tutti sanno tutto di tutti, come tipico delle cittadine, si spettegola moltissimo, questo è un'attività, direi, universale, e abbiamo i vari personaggi che sono tipici di questi microcosmi. Abbiamo il Don Giovanni locale che le spara grossissime, ma sotto sotto non ci deve essere un granché. Poi c'è il sindaco della cittadina, un uomo molto energico, molto positivo, ma con idee estremamente provinciali. Poi abbiamo tutta una serie di quelli che leggono i giornali e sputano sentenze su quello che sta scritto, ideologi che ormai hanno perso la voglia di tirar fuori idee e ideologie, riformatori che ormai hanno messo anche loro le loro riforme nei cassetti, vecchi e rivoluzionari che sono tranquillissimi. Tutti sono coinvolti con tutti e coinvolgono questa coppia che pure vive lì. And then there is the desert, and the desert is not just a background, the desert is not just the setting for this novel, it is a character, an active character. When the night falls, the desert enters the town, the smells of the desert, the dust of the desert, the sounds of the desert, and the silence of the desert penetrate the houses. People can hear the howling of the jackals at night. People can see from their front windows the wandering Bedouins on the far away hills. People receive the sandstorms and the changing climates and moods of the desert. I myself live in a desert town. Every morning, very early at 5 o'clock in the morning, I start my day by taking a half hour or 45 minutes walk in the desert. I walk alone. I listen very carefully to the silence, because the silence of the desert is the silence of the desert. It's not like any other silence. It's deeper, it's larger, and I can say it's an older silence. I can hear the same silence which Jesus and the prophets and the patriarchs have heard when they crossed the desert. The desert helped me knock everything in my life into proportion. When I come back from my desert walk and I turn on the radio for the news and I hear that this or that politician use the words never or forever or for eternity. I know that the stones out there in the desert are laughing. E poi abbiamo il deserto. Il deserto non è una semplice tela di fondo, non è un'inquadratura che si usa per far muovere i personaggi. È un personaggio a sua volta e molto importante. Quando cade la notte il deserto entra nella cittadina, veramente prende possesso di questa cittadina. Il deserto entra nelle case per via del suo odore, della polvere che solleva, del suo suono, che è un suono di silenzio. Si sente ululare lo sciacallo lontano, si vedono contro lo sfondo del cielo le figure dei beduini che passano lontane, si sente arrivare una tempesta di sabbia. Tutto questo è la presenza pressante e notturna del deserto. Anch'io vivo in una cittadina piccola ai margini del deserto e ogni mattina mi alzo molto presto alle 5 e mi faccio una bella camminata di mezz'ora 40 minuti e lì da solo ascolto il silenzio del deserto, che è completamente diverso da tutti gli altri silenzi. Se posso così esprimermi lo chiamerei un silenzio più antico. È quello lo stesso silenzio che ascoltò Gesù e gli altri profeti. Mi dà un senso delle proporzioni delle cose della vita, guardare e ascoltare il deserto. Poi torno a casa e accendo la radio per sentire le notizie e mi può capitare di sentire dei politici che cominciano a parlare di mai questo, per sempre un'altra cosa, per l'eternità. E io so che le pietre là fuori nel deserto ridono. Don't call it night is also a novel about the irony of very good people who are trying to do good things and fail. I know literature is normally more attracted by evil than by good. In a way, it's much easier to write about evil than to write about good. Hannah Arendt, the philosopher, wrote a famous thesis about the banality of evil. But apparently there also exists the banality of good. Good, by definition is not very exciting. It's small time limited and calls for a lot of patience. When the boy Emmanuel dies in unclear circumstances, overdose of drugs or suicide or just an accident, his father, who is an arms dealer traveling somewhere in Africa, appears in town. He meets Noah, the schoolteacher. He decides for some reason that his boy, his dead boy, was in love with Noah and he commissions Noah with the task to erect a memorial for his son in the town of Tel-Kedar. He will pay for the memorial. But this memorial is peculiar. He wants to create an asylum, a home for drug addicts from all over the country. A very progressive, very sophisticated, very special home for drug addicts. Of course, no one in the town of Tel-Kedar wants a home for drug addicts in town. Put it in some other town, put it elsewhere, not in our town. This puts the whole town in a state of rage. Go away, we don't want you. But Noah accepts the project and, along with a few other citizens, tries to carry out the fulfillment, the creation of such a memorial project, the asylum for drug addicts. Teo is uninterested. In fact, he is both skeptical and jealous. He doesn't want Noah to be busy. He doesn't want her to have her own project. And he doesn't believe in the necessity or the possibility or the reason of creating a drug addict asylum in this particular small town of Tel-Kedar. Non dire notte parla anche dell'ironia. Ironia di persone che cercano di fare del bene e falliscono in questa volontà, buona volontà, di far del bene. Non ci riescono. La letteratura, in genere, è più attratta dal male, che dal bene. È anche più facile, in un certo senso, descrivere il male. È più difficile descrivere situazioni dove c'è il bene come protagonista. Hannah Arendt ha scritto della banalità del male, ma secondo me c'è anche una grande banalità del bene. Quando Immanuel muore, il ragazzino muore, e appunto non si sa se sia suicida, se sia per una overdose, se sia stato un banale incidente, suo padre arriva, questo padre di cui non si sapeva niente, e si scopre che è un trafficante d'armi, comunque arriva dall'Africa dove lui normalmente vive. Arriva in città e decide, per strane sue congetture, che il suo figlio morto era in effetti innamorato di Noah, la sua insegnante, e decide di metterla a capo di questa accordata, si potrebbe dire da noi, per creare un qualcosa che sia come un monumento in ricordo del figlio. Vuole creare un rifugio per drogati che vengano da tutto il paese in questo luogo che deve essere costruito lì a Tel Kedar. Naturalmente nella città questo crea non solo un grosso buglio, ma un rifiuto totale. Nessun cittadino che viene interpellato vuole avere un posto dove arrivino da diversi altri luoghi dei ragazzi drogati e perciò non collaborano. Però Noah, che è stata messa a capo da questo tentativo di progetto, invece lo accetta con grande entusiasmo e con pochissimi altri cerca di organizzare la cosa. Questo asilo, questo rifugio per drogati è qualcosa che invece non va giù a Teo inizialmente, non gli interessa, non lo trova un progetto né fattibile né opportuno né interessante, è anche geloso del fatto che Noah abbia trovato qualcosa che la vivacizza, che la interessa e che perciò la terrà occupata. E non crede assolutamente che la cosa funzionerà. La strana stanza sviluppa tra Teo e Noah e il resto del territorio. Quando Noah vuole il progetto e putste her entire energy, enthusiasm, love, devotion in il progetto, Teo pours cold water a lei. Don't waste your time. Nothing will become of it. It's a bad idea. The father will not give the money. There can be no such project. It has no purpose.